Cari pagliacci del Teatro Accademia di Pesaro e il malato immaginario della filodrammatica di Gardolo hanno già aperto la rassegna GAD Festival Ragazzi. Ora si alza anche il sipario del Teatro Rossini sul 73esimo Festival Nazionale d'Arte Drammatica pronto a partire con gli otto spettacoli di altrettante compagnie in concorso. Si comincia il 15 ottobre con il Tavolo Verde di Nadia Bruno in una rassegna non stop fino al 24 ottobre. Una full immersion impreziosita dalla terza edizione del premio drammaturgico Antonio Conti dedicato alla scrittura teatrale. Siamo molto felici di avere dato anche l'avvio ufficiale a questa 73esima edizione del Festival che aveva avuto già un prologo con alcuni appuntamenti, il GAD Festival Ragazzi, alcune conferenze ma oggi di fatto si dà il via ufficiale a quella che è la parte più robusta del cartellone cioè il concorso. Il concorso che si terrà al Teatro Rossini, otto spettacoli in concorso due fuori concorso di due compagnie pesaresi e tutti i giorni a teatro. Quindi quest'anno un festival da veri atleti tutte le sere a teatro dal 15 ottobre fino al 24 ottobre, il 25 le premiazioni e anche uno spettacolo alla Chiesa dell'Annunziata e il raccolto, il copione vincitore della prima edizione del premio Conti. Quindi ripeto un festival da veri atleti dieci giorni a teatro consecutivi. Quest'anno è un anno particolare per il premio Antonio Conti perché riusciremo ad avere nello stesso anno la messa in scena del testo che ha vinto la prima edizione, il raccolto di Giorgia Brusco. Poi avremo la premiazione della seconda edizione, la codista di Marlene Scholten e il lancio della terza edizione. La terza edizione ha una particolarità perché abbiamo voluto aumentare le sezioni in concorso per cui avremo una sezione dedicata ai testi mai rappresentati. Una seconda sezione ai mai rappresentati Under 35 e una edizione terza che sarà quella dedicata ai testi rappresentati. Intanto il Festival GAD presso il Comune di Pesaro ha anche presentato il libro di Claudio Sora, Aneddoti dietro le quinte, dove sono svelati avventure e esperienze racchiusi in brevi racconti dell'attore e ceramista pesarese. Un libro presentato anche attraverso un filmato documentario sulla vita di Sora realizzato da Giorgio Ricci. Il libro poi è stato creato attraverso la raccolta di fotografie a destra e a manca ma selezionate comunque da Claudio e attraverso la stesura al computer di documenti da parte di amici e conoscenti. Alla fine siamo riusciti a mettere insieme davvero un testo comunque che vive la sua vita autonoma, un testo di racconti, di aneddoti dietro le quinte, come dice il titolo. C'è un corredo iconografico molto bello, moltissime fotografie storiche con attori famosi che hanno vissuto con lui la gioia del palcoscenico e abbiamo aggiunto un capitoletto sui suoi anni alla direzione del Festival Nazionale d'Arte Drammatica, il Festival dei GAD per i pesaresi, di cui lui è stato direttore artistico per una dozzina d'anni insieme al suo presidente che ero io, quindi abbiamo cominciato assieme, quindi insieme siamo andati alla scoperta di tutte le compagnie italiane, le abbiamo conosciute, le abbiamo apprezzate, ci siamo ritrovati con le compagnie festival dopo festival e le abbiamo festeggiati in occasione dei nostri incontri. Claudio ci teneva tantissimo a questi nostri incontri con le compagnie, soprattutto con questi attori amatoriali come diciamo non professionisti, quindi infermieri, impiegati di banca o impiegati di amministrazioni pubbliche che dopo aver passato una giornata di lavoro si ritrovano la sera a recitare su un palcoscenico per far rivivere i personaggi del teatro e attraverso questi incontri Claudio viveva e riviveva ancora una volta le sue grandi giornate celebri con gli attori famosi sui palcoscenici di tutta Italia.